Se qualcuno non avesse capito e se mai ce ne fosse ancora bisogno, ribadisco che Fanno non ha nessun interesse a realizzare il nuovo ospedale di Pesaro. Inizia così la lettera aperta del sindaco Massimo Seri che torna a confermare con forza la proposta di Chiaruccia chiedendo alla regione di fare valutazioni tecniche oggettive. Fanno vuol concorre come coprotagonista con Pesaro e con i cittadini della provincia per una nuova struttura che garantisca servizi a tutti all'entroterra e poiché parliamo di una struttura di secondo livello anche per quelle specialità per tutto il territorio provinciale. La regione faccia la regione ha proseguito Seri, il capoluogo non può essere il buco nero che tutto inghiotte e travolge. Se Chiaruccia è divisiva, Muraglia lo è ancora di più e la posizione di chi dice non mi importa dove si fa perché si faccia appare politicamente poco prudente. Dobbiamo tener conto anche dell'opinione e dei sentimenti dei cittadini. Perché se noi chiediamo a qualsiasi urbanista quale sia il sito migliore sicuramente direbbe Chiaruccia e il sindaco di Fanno non può onestamente, se vuole essere corretto, non evidenziare questo aspetto. È il luogo più facilmente raggiungibile, non richiede altri interventi per grandi infrastrutture e soprattutto avrebbe anche un impatto minore. E in molti condividono l'opinione di Seri per il primo cittadino, comunque non bisogna fermarsi ad un'unica ipotesi. Non è una questione di campanile, anzi io sono disponibile come tutta la città, come tutte le forze politiche a sedersi per fare un ragionamento serio, costruttivo per raggiungere un obiettivo. Se non si fa un passo verso il territorio vuol dire che si pensa solo al nuovo ospedale di Pesaro, ha detto il sindaco, e sia per Fanno che per i territori del Metauro e del Cesano è una soluzione inaccettabile, oltre che sbagliata. Le scelte forzate, ha concluso, non conducono da nessuna parte, se ne prende atto le imposizioni portano solo al fallimento e le elezioni lo insegnano. La miglior scelta è quella condivisa, ma io penso e spero che la ragione voglia andare in questa direzione.